Il Comitato Borgo dello Stazione lo chiedeva da anni, ma sono iniziati questa mattina lavori per la rimozione delle parti pericolanti ed ammalorate della struttura in legno collocata negli anni scorsi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area. L'intervento, reso disponibile a seguito della determina numero 162 del 1 agosto al costo di 4.500 euro, ha permesso di liberare l'area della piazza ad una struttura che ormai da tempo versava in condizioni precarie e che ne limitava la sicurezza. Il vice sindaco Gianluca Fisco oggi fa notare come l'amministrazione termine e che sin dal proprio insediamento ha monitorato la situazione, si è intervenuta tempestivamente affinché si potesse ripristinare una condizione di sicurezza per il Borgo dello Stazione Tutto, la rimozione della struttura non interesserà le panchine negli impianti di illuminazione artistica. Soddisfazione del Presidente del Comitato, Angelo Pumilia. Oggi per lo Stazione è un nuovo giorno. È un nuovo giorno perché, come vedete dietro le mie spalle, quella fatiscente struttura che una volta era una bella struttura, ma negli ultimi anni una fatiscente struttura è stata demolita, finalmente. Però mi preme dire una cosa, che mentre negli anni passati non ho fatto altro ogni anno, noi, io come Presidente del Comitato delle Stazioni, ma tutto il Comitato, abbiamo sollecitato ripetutamente l'amministrazione per ripristinarla o per salvaguardarla con l'impregnante, non ci siamo riusciti. Adesso, stanchi, non abbiamo fatto più nessuna richiesta, però qualche buon cittadino che è andato a amministrare la nuova amministrazione senza nessun sollecito, senza nessuna cosa, ha preso questa decisione fondamentale e oggi sta dando spazio allo Stazione, togliendo quella struttura che negli ultimi anni era una vergogna per un posto così bello di sciacca.